. Quando..quando guardo tipo qualche... qualche video, cioè qualche live mentre giochi in solo quando stai in F game che sei in 3 yard strizzi le labbra e stai tipo concentratissimo e mi viene troppo da rito si giuro Sie, strizzi le labbra Ah, sobaldito di bald ragazzi Si adesso r qua Ho fatto una cliff oggi Naked è carina Ma la coltroppo ti giuro La Recon è la più rara La Recon, che è la Recon? È bella la Recon Bella però Se era una skin che esce ora Io non me la comprerai sinceramente Io ti hai metti altro Se è una skin che non è mai uscita Esce così ora in una shop Nuova non me la prenderei Che è? Mi hanno laserato Mi ha dato un team Che ha laserato un hit Ma io vedo tutto 29 è blu a quello dietro Li hai i colpi, spara se li hai E' giusto Perché non volevo sparare Eh vabbè, non intendo muori Se ti spara Ho fatto un peek un secondo Mi ha tirato una volta Devo scappar bro, mi dispiace Scappa, scappa, scappa Ah, devo sparare ovviamente Se riesci Se hai possibilità bro E' negative Infatti non ce l'avevo però Parti in differenza di shield E parti pure in low ground Quindi Tocca la prova a castello Barra montagnolo Una volta presi le palle Oppure ci buttavamo direttamente Dei cattiveri a parco Favamo un giro largo Andammo le case dietro E poi li pusciamo Dai, hitami al volo 3-4 Eh, vai! E' tutti pro player siete, io No C'è chiaro, è facile Ma di che permetti di uscire senza dirmela? Mi stava a dire un attimo una cosa metto Tu eri andato qualche anno da qualche parte Io andavo da un'altra parte qualche anno Io so, mi sei arrivato un attimo No, ti ho rimboxato Tu sei 24 Dai vincolo 24kg E li vedete 25 tu E' brainato il player Brainatissimo Perché ho letto che il 25 è maldissimente concluso quello fatto Perché ho letto che il 25 è maldissimente concluso quello fatto Si Quanto flexe questa palla? Quanto scusione? Quanto scusione? Quanto male? Non ho messo, mi bebiato per mazzurro nel tuo attore non mi ricordo se è 280 il mattone non è ferro a presto attraverso 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 lo dopo l'hai preso tiragliela via tiragliela via non ho lasciato non ho pensato se fosse là dentro non ho pensato se fosse là dentro mi stanno sudando le mani devo lasciare forse il tasto non ho pensato la sangoletto è tipo ultra brained hai visto non ho pensato non ho pensato non ho pensato 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 14 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15